carissimo e fox 12 come visto purtroppo la diretta è andata stava andando bene ma purtroppo è andata male a causa di persone stupide non è una parolaccia si può dire ok è anche ignorante si può dire carissimo e fox 12 veramente io ti auguro un buon compleanno ti chiedo scusa formalmente ufficialmente ti chiedo scusa no non ho potuto continuare la trasmissione perché era veramente impossibile continuare alcuni moderatori non facevano il loro lavoro e adesso sistemerò questo qualche moderatore sarà sospeso dall'incarico forse per una settimana forse per due o forse indeterminatamente ma questo è ancora da vedere comunque sia caro e fox 12 mi dispiace ti chiedo scusa veramente io ho cercato di fare l'impossibile per come vedi sono qui ancora allo dove che cacchio è di qua no di là vabbè non so come mi inquadra la telecamera perché sto usando un'altra telecamera sono quattro le telecamere che uso quando faccio le dirette adesso sto usando la regia non c'è mi sto arrangiando tutto da solo quindi sto usando la numero due ok la camera due devo guardare qua ok quindi come vedi caro e fox sono ancora allo studio la diretta è appena terminata mi dispiace veramente che sia andata a finire così male io ti aspettavo volentieri nella mia trasmissione per farti gli auguri ufficiali quindi buon compleanno io ho cercato di farteli all'inizio quando era tutto calmo e anche a metà poi ha cominciato a insomma se hai visto la diretta ti sei accorto anche tu alla fine proprio non ce l'ho fatta anche il più resistente il più professionale di me a questo punto avrebbe perso le staffe e avrebbe chiuso anche senza sigla avrebbe chiuso tutto e buonanotte a secchio invece sono stato molto più professionale ho chiesto di chiudere alla regia di fare loro la sigla e tutto sennò non ci sarebbe stata neanche quella ad ogni modo veramente e fox ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno grazie che segui il mio canale adesso cerco di fare più in fretta possibile sono le nove e quindi entro nel tuo canale vedo qualche tuo video che hai prodotto e forse anche qualche altro video ma solo esclusivamente quelli che mi sono stati richiesti nei commenti perché purtroppo come già detto più volte le notifiche sono bloccate ma non si sa il motivo non posso andare indietro più di un'ora se entro in un canale vado indietro poi si blocca e passano i minuti e ci vuole più tempo per vedervi quindi detto questo veramente questo video è solo per te e fox mi dispiace infatti vedi il titolo scusa e fox mi dispiace ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno so che domani il 12 purtroppo domani è una brutta giornata per me sono 29 anni che è morta mia mamma vabbè comunque e fox 12 a nome anche degli imbecilli che si sono presentati questa sera io cioè a nome insomma ti faccio le scuse in generale per come la terra diretta quindi caro e fox 12 tanti auguri di buon compleanno dal tuo caro amico max ciao e fox continua così è un bel canale sei in gamba ciao amico a presto ciao